Da sempre la BMW ci ha abituati a grandi vetture, contraddistinte da elevati standard di qualità, prestazione, e innovazione, anche con la i5 queste premesse vengono mantenute e spettacolari. Un'auto che sembra dare il conforto di un salotto, la comodità di un divano, e nel contempo garantire le prestazioni più significative nel massimo della sicurezza e la BMW. Vero come è vero che la BMW ha abituato bene il mercato, i suoi clienti, alzando sempre in su la sticella della competizione, anche in questo caso, con la i5 il livello è a dir po', con un'attesa che continua a crescere per via del suo arrivo, la BMW i5 è pronta a ripresentarsi rinnovata, con un restyling che mostra il carattere potente del motore e una tech, un veicolo che potrebbe essere definito avveniristico, ma con tutta la comodità di un salottino. Come dicevamo, ed è arrivata anche ad un target di supporti tecnologici davvero di grido, tra un sistema di assistenza alla guida spettacolare, il metodo Highway Assistant al debutto. Quel che avremo sotto mano sarà una vettura che sembra venire dal fuoco per quali ragioni? Principalmente, per appunto, per via di questo esordio del Highway Assistant, che andrà a controllare in modo autonomo le distanze tra i mezzi, specie quello che, per cosa tramite calcoli minuiziosi, eseguirà la regolazione dello sterzo per effettuare il cambio di traiettoria, e dunque delle corsie, tramite gli O. Una tecnologia è debutta nella nuova BMW i5, elettrica, l'ultimo ritrovato dell'apprezzata serie 5, che si prepara. I test pare abbiano dato tutti bandiera libera, facendo notare altissime per dai tratti di neve e di ghiaccio. In Svezia, alle aree molto calde con climi secchi, così come anche su Selciato e strade dissestate, autostrade e no. Insomma, un successo su due versioni. Quella e Drive 40 i5 M60 X Drive, tutte minuiziosamente testate su tutti gli aspetti, compreso l'impianto di riscaldamento e raffreddamento. Due versioni, quella e Drive 40 i5 M60 X Drive, tutte minuiziosamente testate su tutti gli aspetti, compreso l'impianto di riscaldamento e raffreddamento. Due versioni, quella e Drive 40 i5 M60 X Drive.